Ciao a tutti! Morfeus Materassi Health System, sistema benessere, via Fratelli Bencivenga 35, Mondragone. Bene, con il video di oggi intendiamo parlare dell'obiettivo primario della Morfeus Materassi appunto. Qual è la priorità, in altre parole, della Morfeus Materassi? Il benessere delle persone, la qualità dei prodotti intesa come prodotti certificati, prodotti garantiti e quindi privi di sostanze nocive dannose appunto per la salute delle persone. Questo è il nostro obiettivo principale. Noi non trattiamo prodotti economici, non trattiamo prodotti di cui non conosciamo la provenienza e anche quei prodotti che non sono espressamente certificati con un cartellino sono prodotti che garantiamo noi come Morfeus Materassi e quindi certifichiamo noi come azienda specializzata nel settore. Azienda che si rivolge particolarmente a chi soffre di mal di schiena, a chi ha problemi di allergia agli acari, chi ha problemi muscolari, articolari, ai ragazzi che hanno determinate problematiche come potrebbe essere la scoliosi, la cifosi, ma anche ai bambini che hanno bisogno di prodotti sanitari, di prodotti antisoffoco, insomma di prodotti speciali. Bene, questo ci premeva dire, con questo è davvero tutto. Noi vi ringraziamo come sempre per l'attenzione che ci dedicate, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima. Ciao!